Aveva denunciato il racket dal pizzo, le bande che raglieggiavano i suoi negozi di profumeria. Il commerciante Gatano Giordano aveva 55 anni quando il 10 novembre del 1992 sotto casa in via Giovanni Verga fu freddato dai killer. Era in auto assieme al figlio Massimo raggiunto da un proiettile che lo colpì al braccio. Giordano aveva sfidato la mafia giarese cacciando dai propri negozi, uno in piazza ed un altro nel quartiere caposoprano, i picciotti che gli chiedevano il pizzo. Il commerciante aveva presentato denuncia contro tre mafiosi del clan Gianni Cavallo, poi chiamati Siggiari. I killer uccisero Giordano, ma nei piani delle cosche quell'omicidio rappresentava anche un'intimidazione rivolta a tutti i commercianti, colpirne uno per educarne cento. Da quel gravissimo fatto di sangue che calamitò l'attenzione nazionale di tutti, sono passati esattamente 24 anni. Oggi è il 10 novembre. Cosa ricorda di quel particolare momento? La confusione, la sorpresa, lo sconcerto, la paura, l'incredulità e il senso di impotenza. La città poi si è ribellata in merito proprio a quell'omicidio. C'è stata una rivalsa anche perché il gesto è stato forte. Non si era mai sparato per uccidere un cittadino normale a conseguenza di una denuncia. Certo le denunce erano poche, ma tra più c'erano atti intimidatori, non si mirava all'essere umano. Lei ha visto in faccia che ho cito a suo marito. A distanza di anni è riuscito a perdonarli? Questa domanda è una domanda molto sottile. Io una volta l'ho posta persino ad uno psicologo, di cui è possibile fare domande di questo tipo a una vittima. E lo psicologo mi ha risposto che non si sente in colpa se non riesce a liberarsi da questo pensiero. Io non li ho perdonati, ma li ignoro. Hanno pagato per la società, basta. Sono persone che non mi toccano, né mi emozionano, mi lasciano assolutamente indifferente. Sono numerosi i commercianti e gli imprenditori che ultimamente hanno denunciato. Grazie alla nascita dell'associazione Antiracket, però ci sono tanti commercianti e imprenditori che non denunciano. Qual è il consiglio che lei oggi vuole dare pubblicamente? Posso suggerire di denunciare, perché non credo che tra pizzo e tasse si possa fare una vita comoda. Quindi denunciare resta la cosa migliore, anche per una questione di dignità. Poi oggi se si denuncia non si è soli, non si ci espone. Se si vuole non si ci espone in prima persona. Le forze dell'ordine hanno anche modo di collaborare in maniera sottile, senza che il soggetto diventi un bersaglio. Il 10 novembre del 1992 lei non era presente a Gela? Io ero a Milano, ero con mia figlia. L'abbiamo saputo la sera, quasi subito. Naturalmente non si sono pronunciati dicendomi hanno ucciso Gaetano. Mi hanno detto che aveva avuto un incidente. Io sapendo che c'era Massimo c'era anche una grande preoccupazione per mio figlio, che nella stessa disgrazia è rimasto ferito. Lei poteva andare via da Gela in merito a quello che è accaduto, però è rimasta, messo radici in città. Per quale motivo? Intanto il mio lavoro era il negozio. È un lavoro che avevamo messo insieme con mio marito. Insomma ci sono passati 25 anni, forse di più, perché io quell'anno ho fatto 25 anni di matrimonio. Quindi se ci mettiamo i precedenti, era 28 anni che lavoravamo insieme. Tutto quello che era stato costruito sarebbe stato annullato in un Fiat. Quindi non avevamo solo la perdita del capo, ma avremmo avuto la perdita di tutto quello che era stato il suo lavoro e il mio lavoro. Un po' per motivi di questo tipo e un po' perché io mi sono sentita accompagnata dalla città. Cioè la città non mi ha abbandonato, la città non mi ha respinto, la città è stata solidale, mi ha aiutato ad andare avanti. Grazie. Grazie.